Dal Cipe in arrivo quasi 52 milioni di euro per l'area retina per consentire la realizzazione di interventi sulla regionale 71 e una variante sulla regionale 69 in località Ponte Mocarini a Terranova Bracciolini, l'annuncio dell'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli. Si tratta di risorse importanti che consentiranno di poter continuare in alcuni casi di completare gli interventi sulle strade regionali della provincia di Arezzo. Sono circa 54 milioni quelli che sono stati attribuiti alla regione, serviranno essenzialmente per quattro interventi, tre sulla 71 che riguarderanno la continuazione della variante di Camuscia per connettersi direttamente con la superstrada Siena Perugia, che riguarderanno i lotti della 71 nella parte a nord di Arezzo, quindi in Casentino. La variante del Corsalone sarà uno di questi, il secondo intervento sarà da Calbenzano a Subbiano Nord. L'altro intervento invece consentirà il completamento della strada regionale 69 per quanto riguarda la realizzazione della pretella tra le coste e il casello del Valdarno, quindi nel comune di Terranova, che era l'unico tratto mancante. È importante da questo punto di vista sottolineare che anche la parte fiorentina, che invece è rimasta da realizzare, vedrà l'inizio dei lavori del primo lotto proprio nelle prossime settimane e abbiamo il completo finanziamento per proseguire anche con il lotto 3, il lotto 4 e il lotto 5 e quindi connettere il casello del Valdarno con il casello autostradale di Incisa, che era l'obiettivo con il quale è stato pensato l'intervento sulla 69 fin dall'origine.